Un posto al sole, trame gennaio, Elena capisce Alice Nente e cerca di aiutare Nunzio. Ben presto ci sarà tensione altissima tra Alice e Nunzio in un posto al sole. Come raccontano le anticipazioni, la giovane Pergolesi organizzerà un piano per vendicarsi del rifiuto di Camarota. Nonostante gli abbia fatto credere di volersi mettere da parte, dato che la ragazza che ama è Chiara. Il desiderio di rivalsa avrà la meglio e nei prossimi episodi della soppalice si procurerà dei lividi e accuserà Nunzio di averla aggredita. Correndo in lacrime a Palazzo Palladini, dove verrà accolta da Roberto e Marina. Tuttavia, il teatrino della giovane Pergolesi non convincerà nessuno, sua madre Elena compresa. Per colpa di un suo capriccio, Nunzio rischia infatti di finire in tribunale. Nel dettaglio, nelle prossime puntate della S.O.P., il racconto di Alice presenterà sin da subito delle forti contraddizioni. Nunzio ammetterà le sue colpe, ovvero di aver tradito Chiara, ma respingerà al mittente le infamanti accuse. Dopo aver visto Alice in lacrime, Roberto sarà pronto a denunciare Camarota. Che mai ha sopportato? Verrà però fermato da Marina che, arguta come sempre, inizierà a sospettare che la nipote stia raccontando solo bugie. Preoccupata per quanto successo, la bella Giordano chiamerà Elena, che tornerà subito a Napoli. Dopo aver parlato a lungo con Alice, Elena si renderà conto che le sue accuse sono solo delle bugie e così andrà ad Nunzio. Dicendogli che farà il possibile per far cambiare idea alla figlia, la quale è evidentemente inconsapevole della gravità delle proprie menzogne. Insomma, nessuno crederà al racconto di Alice, ben conoscendo la lealtà di Nunzio. Che mai sarebbe capace di fare del male a una ragazza? Stando alle anticipazioni Silvia darà degli utili consigli a Nunzio, che sarà disperato per le conseguenze che potrebbero travolgerlo a causa della vendetta della giovane Pergolesi. Anche Franco starà vicino al figlio, certo della sua innocenza. L'unica persona che può sistemare la faccenda è Alice. Ma farlo significherebbe ammettere le sue bugie, oltre che rischiare di essere denunciata a sua volta per diffamazione. Nelle nuove puntate di Un posto al sole Alice si troverà completamente sola e non creduta da nessuno, madre, compresa. Uno scenario che mai si sarebbe immaginata, abituata ad avere tutti i suoi piedi. E così inizierà a ripensare a quanto accaduto e, dopo aver ricevuto un messaggio inaspettato, verrà travolta dai sensi di colpa. E così inizierà a ripensare a quanto accaduto e, dopo aver ricevuto un messaggio inaspettato, e, dopo aver ricevuto un messaggio inaspettato,